Salve a tutti, bentrovati in questo nuovo video, io per chi non mi conoscesse sono Max, parliamo di gossip, parliamo di tv, facciamolo con Uomini e Donne stavolta dove troviamo Ida Platano che a quanto pare alza la voce contro i fan che sono troppo, troppo invadenti. Lo ha fatto dalla sua pagina social dove è sempre molto attiva quindi facilmente se ne può accorgere di qualsiasi cosa, per la dama questo sembra un momento d'oro eppure non tutti ne sono propriamente convinti. C'è infatti chi sospetta che dietro la sua apparente calma si cieli il fantasma di Riccardo Guarnieri, di nuovo i ritorni di fiamma, insomma a scatenare questo dubbio è stata questa frase Amo la goccia che fa traboccare il vaso. È da lì che nascono i cambiamenti più importanti. Ci sono persone che perdi e ci sono persone che nel perderle vinci. E questa signori può essere una frecciata a Riccardo? Sembrerebbe proprio di no, ma a puntualizzare ci ha pensato la stessa Platano che ha voluto ribadire ancora una volta che non tutto ciò che pubblica è un riferimento al passato sentimentale. Volevo dirvi anche un'altra cosa. Ogni volta che io pubblico qualcosa voi fate riferimento al mio passato, ma non è così. Io pubblico ciò che voglio. Però giustamente un pensiero ce lo si fa. Se voi intendete altro sono soltanto affari vostri e basta, non fate riferimento al passato e io ve l'ho detto. Con queste parole, signori, Ida ha voluto mettere un ulteriore punto per chi non crede al suo sentimento nei confronti del presente e non del passato. Il presente è Alessandro Vicinanza. Quindi, ricordiamoci che presto volerà a Miami con lui, regalo che ha fatto recapitare l'ex cavaliere per la sua amata nella notte di Natale. Un grandissimo regalo di Natale. Mentre Ida mette un punto alle chiacchiere, Tina Cipollari li accende, invece. L'opinionista sarebbe nuovamente finanziata e quindi non più single da un po' di tempo a questa parte. E il sogno chiamato matrimonio sarebbe anche dietro l'angolo e questo sarebbe una notizia strabomba. I rumor sono stati fatti circolari dal settimanale nuovo e non basta. No, perché fonti vicine all'opinionista di Uomini e Donne hanno confermato questa nuova liaison amorosa. Nuovo, il settimanale, ha aggiunto che sarebbe tornata insieme a Vincenzo Ferrara, con cui lui avrebbe anche parlato di convolare a nozze proprio nei prossimi mesi. Un vero scoop, un super scoop, che aperte le porte a qualcosa di meraviglioso ci aspetta per nuove entusiasmanti notizie, sicuramente, sempre se succede. Per chi non lo conoscesse, lui lavora come ristoratore proprio nella città di Firenze a 53 anni. La prima volta che si sono conosciuti è stata nel 2018, poi circa 12 mesi fa è arrivato l'addio e adesso, a distanza di un anno, l'amore è tornato a bussare prepotentemente alla porta e potrebbe sfociare nei fiori d'arancio. Noi attenderemo con ansia questa notizia, non vedo l'ora di parlarne. Intanto, per quanto mi riguarda è tutto, un saluto a tutti da Max, ci becchiamo alla prossima, sempre su Pausa Caffè.